Le squadre italiane qualificate alle Coppe Europee di Pallavolo Femminile 2024-2025. La stagione di Pallavolo Femminile in Italia si sta concludendo con la finale play-off tra Conegliano e Scandici che si trovano sull'1-1, che hanno garantito alla Serie A1 femminile due posti nella prestigiosa Champions League 2024-2025. Dopo una stagione di successo e grande impegno, le due compagini si appressano a rappresentare l'Italia nella massima competizione europea. Conegliano e Scandici hanno ottenuto il diritto di partecipare alla Champions League dopo aver raggiunto le finali scudetto. Entrame le squadre hanno confermato la propria partecipazione per la prossima edizione, consolidando il loro status tra le migliori d'Europa. Inoltre, un'altra squadra italiana si unirà a loro nella competizione europea. È la vero volle Milano. Nonostante la sconfitta in semifinale con Toscandici, Milano ha ottenuto il tagliandino grazie al suo ottimo piazzamento in regular season. Questo rende quindi Milano la terza rappresentante italiana nella Champions League. La sfida finale tra Conegliano e Milano, che si terrà il prossimo 5 maggio a Natalia, determinerà quale squadra avrà il privilegio di presentarsi alla prossima edizione della Champions League col titolo in mano. Ma le buone notizie non finiscono qui. Novara si è assicurato un posto nella Cev Cup come quarta classificata in regular season. Mentre Chieri, quinta in Serie U, parteciperà alla Challenge Cup. In sintesi, le squadre italiane si preparano a competere al massimo livello europeo, portando avanti il prestigio e la tradizione della pallavola italiana. Siamo pronti a vedere questi talentuosi atleti affrontare le sfide e rappresentare il nostro paese con orgoglio e determinazione sul palcoscenico internazionale, considerando il fatto che quest'anno riusciamo a fare la tripletta con Champions League, Cev Cup e Challenge Cup conquistate tutte da squadre italiane. In sintesi, quindi, le qualificate italiane alle Coppe Europee Femminile 2024-2015 sono Champions League con Eliano Escandici, finalista Scudetto, Milano con miglior piazzamento in regular season, Cev Cup, Novara, miglior piazzamento in regular season dopo le qualificate della Champions League e Challenge Cup, Chieri, miglior piazzamento in regular season dopo le qualificate della Champions League e della Cev Cup. Ciao!